Allora Sindaco, appena terminata questa riunione di maggioranza, lunedì c'è il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio Nicola Perrino sull'assestamento di bilancio. L'ultimo Consiglio Comunale ha mostrato molta tensione tra l'opposizione e la maggioranza. Allora, cosa accade? Accade che lunedì si andrà in Consiglio Comunale e la maggioranza al completo voterà l'assestamento di bilancio. Questa è una notizia freschissima, quindi nessuna preoccupazione per la città di Afragolo rispetto a questo. Che cosa vi siete detti di lunedì maggioranza? C'è stata una discussione approfondita da parte di tutti i gruppi politici, a partire da NCD Area Popolare, che come è nota è stata assente in occasione della mozione di sfiducia. C'è stata una messa a punto soprattutto di carattere metodologico, cioè su come procedere nella costruzione delle decisioni che via via l'amministrazione va ad assumere. E che comunque noi abbiamo continuato ad assumere in questo tempo. Quindi rispetto a questo abbiamo condiviso delle soluzioni, delle modalità attraverso le quali partecipare meglio le decisioni che assumiamo a tutta la maggioranza e che poi la maggioranza condividerà e porterà avanti delle sedi poi più squisitamente amministrative. Come è giustificato l'assenza il Presidente del Consiglio con gli uomini di NCD al Consiglio Comunale? No, NCD ha posto sul tavolo questo tema che, ripeto, rispetto ad alcune decisioni più strategiche ma anche rispetto a decisioni più ordinari ci sia una maggiore trasmissione di informazioni nell'ambito della maggioranza stessa e questo problema lo abbiamo risolto tranquillamente con una messa a punto della modalità con la quale operare per arrivare alle decisioni. Quindi il problema è risolto sul piano politico, era un problema soprattutto di carattere metodologico, gli obiettivi strategici che noi ci siamo posti sono stati riconfermati, ci muoviamo rapidamente perché questi obiettivi siano realizzati perché non possiamo attendere oltre e quindi il percorso che abbiamo già delineato con la fase 2 e con gli obiettivi della messa in campo del PUC, di Galleria Santa Chiara, degli interventi su San Marco Saggese e della macrostruttura, della revisione della struttura della macchina comunale saranno in tempi molto rapidi messi in esecuzione. Cosa risponde invece all'opposizione che ha alzato un po' i toni anche sulla stampa locale oltre in Consiglio Comunale? L'opposizione, io l'ho detto già in Consiglio Comunale, in quella circostanza ha raccolto un regalo che a mio parere non meritava perché l'iniziativa era molto estemporanea da parte loro e anche abbastanza discutibile nella sostanza, una iniziativa velleitaria che si è avvantaggiata del fatto che l'Udc, l'Ncd in quella circostanza non è stata presente. Ma è un'iniziativa senza diciamo... Una bolla di sapone lei dice quindi? Una bolla di sapone che si è risolta abbondantemente e rispetto alla quale all'opposizione non resterà che da raccogliere l'evanescenza della propria iniziativa politica. Al giovane Tuberosa invece cosa rispondiamo che è stato molto critico? Tuberosa che viene appellato sempre di essere un giovane, come anche lei ha detto, io cerco di trattarlo come una persona adulta e quindi gli ho spiegato che nella responsabilità amministrativa si fanno le cose che si possono fare, non quelle che non si possono fare e che si desiderano fare. Sulla macrostruttura gli ho detto che noi metteremo in campo questa iniziativa, riformeremo la macchina comunale, allargheremo, implementeremo anche quanto possibile con la presenza di nuovi dirigenti. Ovviamente, come ho detto e ho ripetuto in tante circostanze, alcuni dirigenti che noi abbiamo trovato qui nel comune di Afragoli insediati con la vecchia amministrazione fanno parte della struttura e non è che sono epurabili, ammesso che li si volesse epurare. Quindi si tratta semplicemente di sostituire, come avrebbe detto Freud, dal principio del piacere il principio della realtà. E sarebbe ora che Tuberosa questo principio della realtà iniziasse ad acquisirlo.